La partita di San Siro La partita di San Siro La partita di San Siro Lautaro Martinez Attaccano con più elementi De Pai al pallone giusto Ottimo intervento nel portiere Onieka Cambia di fronte l'attacco con questo lancio Che taglia tutto il campo Stato fermato dal difensore Turam Occhio all'Inter che avanza Cerca il secondo palo Ha provato a battere il portiere Ma il pallone è finito largamente sul fondo Su questa girata di testa Attento in questo frangetto Recupera la palla Di Marco Varela Attenzione a una possibile opportunità per il vantaggio Intercetta palla Vediamo se la sfruttano Pavard Bastoni Chala Noglu Alla Sudepai Attenzione occasione Il portiere Dice di no La mette in mezzo Benza girata di testa L'ha angolata solo un po' troppo Gabriel Strepezza Buono qui il recupero del pallone Dato sul possesso palla Nettamente a favore dell'Inter Nell'ultimo quarto d'ora Se continuano a spiggere con questa intensità Il gol può arrivare da un momento all'altro Ma devono essere più determinanti In fase conclusiva Alla palla Buono occhio E il portiere ci arriva La difesa spazza via il pallone Gioco fermo L'arbitro ha visto il cuoriccio Turam Appoggio su Onieka Occhio a recupero in una zona interessante Lautaro Martinez La rispitta del portiere Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio Palla in un'altra parte Calcio un angolo per loro Buona uscita del portiere in mezzo al traffico Palla regalata agli avversari Palla regalata agli avversari Riesce a tenerla in campo Brutta gestione del pallone Lautaro Turam Ottimo Qui l'allunghio sull'avversario L'allunghio sull'avversario E' tutto pronto a San Siro Per il calcio d'inizio del secondo tempo Porta palla Vediamo cosa fa Barella Marcos Turam E' tutto solo Il gol dell'Inter Che si porta Luca più due sugli avversari Buono il pallone recuperato Duvan Zapata Apre dall'altra parte Errore nella circolazione Nerazzurra Sarà fallo Calcio di punizione contro i Nerazzurri Gabriel Strettezza Appoggio su Onieka Taglia fuori bene E qui la difesa Con l'ancio lungo Potrebbe provare il tiro Lautaro Martinez Ecco il gol di Lautaro Gabriel Strettezza Di Marco Intervento sul pallone A metri per avanzare L'intervento irregolare Dunque il calcio di punizione Contro l'Inter Hanno campo Possono far male Con la ripartenza De Pai In affanno De Pai Che perde palla L'arbitro ha visto il pallo Ma concede il vantaggio Lautaro Martinez Iniziativa sventata dal portiere La calcia in profondità E c'è la traversa Palla controllata Palla controllata senza problemi Della difesa Onieka Pallone è recuperato Molto bene qui Marcus Turan Può battere a rete Brava il pallonetto Palla in rete Il pallonetto morbido Freddissimo sotto porta Cambia gioco Dall'altra parte Tacco il robusto Lautaro Martinez Occhio al tentativo In capo aperto Occhio perché qui la difesa Un po' scoperta Bravo qui il portiere Sulla concursione Sulla concursione Sulla concursione Sulla concursione Per Grazie a tutti. Il secondo è sventato il pericolo. Concedono il calcio d'angolo. L'appoggia comodamente verso il portiere. Grande riflesso la parte del portiere che recupera evitando guai. Onieka. Controlla a Sapata. Gran palla in mezzo. Buono il tocco dentro. Contropiere che sfuma. Decisivo l'intervento del difensore. Occhio alle sovrapposizioni. Va via la grande. E c'è il gol. E sta diventando davvero un tiro al bersaglio imbarazzante. Bene qui il difensore ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Palla morbida a scavalcare la difesa. Conclusione al volo finita lontana dai palli da apprezzare almeno il coraggio. Per fare questo gol ci vuole tecnica, coordinazione e poi anche fortuna. non ha avuto nulla di tutto ciò. Ancora 600 secondi alla fine. Ferma l'azione d'attacco dagli avversari. Ultimi giri dell'orologio. Non dovrebbe esserci sorprese. Padroni di casa con un ampio vantaggio. Di fronte a una prestazione del genere ci si alza in piedi e si batte le mani, Piero. C'è stata una sola squadra in campo. Il dominio è totale. Attenzione a questa occasione. Ha fatto a centro. La porta era praticamente vuota. Conducono con grande margine. 5 a 1 fino a questo momento. Siamo entrati negli ultimi 180 secondi di gara. Sarà fallo. Calcio di punizione contro i nerazzurri. Va via in velocità. Grande occasione. Con Cusale che termina fuori di poco. Ha cercato il gol puntando sulla potenza. Ok, ma così facendo è mancata la precisione necessaria. avrebbe dovuto far meglio da quella posizione, Piero. Piero che andrà avanti per altri due minuti. Non bene la difesa qui. Non può sbagliare. Si mette sulla traiettoria, ma attenzione. Buono l'intervento del portiere. Calcio di rigore per l'Inter. Nessun dubbio per l'arbitro. Può essere il gol che chiude la partita. Non sbagliare al dischetto. È finita, dice l'arbitro. E i giocatori esultano per questa vittoria. E hanno ragione, Pier. Per loro tre punti preziosi che fanno morale e che valgono soprattutto il primo posto. Forse ancora presto per parlare di titolo, è vero.